Una comunità che deve essere unita nella serenità e nella gioia per affrontare i momenti difficili. E questo è il messaggio e l'augurio lanciato dal sindaco di Castelnuovo Cilento Eros Lamaida. L'occasione è stata data dalla festa che si è svolta sabato sera presso la sala comunale di Velina. Un momento per stare insieme alla comunità locale ma soprattutto una festa per chiudere con gioia le recenti festività natalizie. Stasera siamo qui a Velina di Castelnuovo Cilento per la festa di chiusura di tutte le feste di quest'anno, del Natale. È una festa per tutta la nostra comunità ma anche per altre persone che si sono aggiunte, anche per altri paesi, non c'è nessun problema. Devo ringraziare l'assessore Gessomina Tomeo che l'ha voluta fortemente e quindi ha voluto fortemente continuare questa nostra tradizione di un saluto alle feste. Che poi è un saluto di tutta la comunità alle feste a Natale e un augurio per un anno bello, solidale e di tante cose belle. Sono contentissimo, sono veramente felice di questa serata perché è l'espressione di una comunità che vuole essere unita, che deve essere unita e che deve allontanare ogni tentativo di turbamento. Tutto ciò che può turbare la serata di una comunità di Castelnuovo Cilento ma di un'altra comunità deve essere allontanato perché oggi tutti i paesi, l'Italia intera, ha bisogno di unità, ha bisogno di stare insieme, ha bisogno di affrontare le sfide che ci attendono difficilissime ma non impossibili, di affrontarle in maniera unita e col cuore sereno. Quindi per questo stasera, questa festa per me è di grande importanza e di augurio che il nostro comune, che la nostra comunità, i miei concittadini possano affrontare il nuovo anno in maniera veramente serena, forte e coraggiosa.